No, si spinge molto ai tempi giusti come ha fatto, è stato bravo, anzi per lì si è in fase difensiva, è stato bravo anche in fase offensiva, talvolta nel nostro gioco iniziano con la portatoria, anche con la portatoria, anche in trattazione, torero' a involvede nel quale injuries,�uciliudi, per l'infezione dove prov Julian threatened ? Semplici si sa che l'euro ball, la ferentina è la polpo idalia, ma ti chiedo come cambia stasera, se cambia la stagione della ferentina. c'è un'ulteriore elevazione al campionato adesso ci vediamo da metabolizzare questa delusione ma non ammanico non ne andiamo la domani si volta pagina ci servono forze forze per disputare le prossime tre partite radice di latissime forza anche mentale e perché vogliamo giocarci al finale di campionato così come sulla passarega che abbiamo disputato fino adesso con più energie sicuramente non avremo l'Europa lì e guardo avanti con l'ottimismo anche se dobbiamo passare questi dieci giorni ulteriori di partite della vicinatura